Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere L'Ipnosi Soluzione, L'Ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad una signora di Liegi, la quale mi chiede, dottore, come posso fare per essere disciplinata, per avere una super disciplina, perché il tempo vola, passa il tempo, ma io praticamente mi faccio trasportare dalla giornata, da chi mi distrae, da chi mi chiama, da chi bussa la mia porta. E quindi volevo capire, dottore, siccome le ho provate tutte, cosa posso fare per avere una super disciplina, una super disciplina. Io l'ho detto, gli ho risposto per iscritto, che se gioca nel suo subcosciente può avere questa super disciplina e cambiare la sua vita dal negativo al positivo, ottimizzando al massimo il proprio tempo. Benissimo. Come fare? Puoi andare o da un professionista che si occupi di disciplina, il che è molto difficile trovarne uno all'altezza, oppure da sola utilizzare il potere della tua mente e con degli audio MP3 DCS, L'Ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola. Adesso me ne viene uno, come super produttività, super azione. Tu segui le istruzioni della lettera, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un figlio, e tu sentirai un'energia naturale salire dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli, senza nessun effetto indesiderato, senza nessun effetto collaterale, senza manipolazioni di sorta, perché lo farai da sola, da sola, in qualsiasi parte del mondo in cui li siedi, premi play, scarichi premi play, è veramente una cosa incredibile, d'accordo? È incredibile cosa può succedere. E vedrai come la disciplina come non l'hai mai vista. Entrerà nel famoso focus, nel famoso flusso, nella famosa zona, zona. Lavorerai come nei tuoi giorni migliori e ti sentirai la persona più disciplinata e più felice, perché questa è la cosa più bella pure, è il più felice della terra, d'accordo? È semplice, certo, perché nessuno lo dice, perché, se rifletti, nessuno interessa a dirti come fare. Perché conosco molta gente che passa da libro in libro, da corso in corso, ma la musica non cambia, per cui se anche tu ti trovi in questa situazione, non riesci a capire il perché. E il perché lo conosce soltanto il tuo subcosciente. Devi risalire la tua infanzia, chi non era disciplinato nella tua famiglia. Quale personaggio in tv hai visto non disciplinato? Quale amico, quale parente? È da lì che è stato inciso come un marchio a fuoco, come un marchio a fuoco nel tuo subcosciente la non disciplina. Quell'immagine che il tuo subcosciente, il tuo genio della lampada da lazino, la tua scatola nera, ha iniziato a registrare, è stato impresso come un marchio a fuoco l'immagine di chi non aveva disciplina. Ed è diventata la tua vita, il tuo destino. Ora, se vuoi uscirtene, ci sono diversi audio MP3 DCS, senza neanche fare sessione online di ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, perché al momento le ho sospese, sono molto impegnato, sono spessissimo all'estero, così come i miei associati. Ti consiglio di scaricarti quest'audio MP3 DCS molto potente dell'associazione Ippnologi Associati Los Angeles Beverly Hills, a cui ho ceduto tutti i miei diritti, dal titolo Super produttività, super azione oppure ego entusiasmo. Anche quest'altro audio ti farà camminare sulle acque, in tutti i sensi immaginabili e possibili. Non devi ingurgitare nulla da fuori, non si tratta di doping, non esiste nessun effetto collaterale, perché sono solo parole che guidano il tuo subcosciente a fare il miracolo della tua stessa mente. Trasparenti, pulite, queste parole DCS, intrise di un antico sapere che sfiora un secolo, perché sono create ad arte, ad hoc. Però se segui le istruzioni alla lettera, facili, senza cuffie, senza auricolari, senza che niente e nessuno ti disturbi, tu potrai dire montagna spostati, la montagna si sposterà. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, appunto ipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla, che gli può cambiare la vita come è successo a me nel 2008 a centinaia e centinaia di persone nel mondo e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia, alla prossima, ciao!